per parlare insieme ad Erika Serafini eh che è un'agenzia un'attività che si chiama One Smart Events. Ciao Erika benvenuta. Buonasera a tutti buonasera e grazie. Buonasera benvenuta grazie per essere qui con noi. Organizzare eventi in particolare matrimoni e poi tutto il resto oppure tutto è calibrato un po' quindi. Tutto ciò che concerne diciamo l'organizzazione di un evento di un congresso di un matrimonio per passare anche a piccoli eventi come appunto possono essere le comunioni, i compleanni, tutto ciò che eh ruota intorno diciamo al benessere personale della diciamo della persona, della famiglia che vuole festeggiare qualcosa di veramente importante. Ovviamente eh la mia è un'attività che parte un po' da lontano quindi nasco inizialmente come congress di events organizer all'interno di una struttura alberghiera fino a che eh passo dopo passo decido di eh mettere sulla mia attività, di mettere quindi a disposizione delle persone che hanno fiducia in me eh la mia professionalità e inizia da qui la One Smart Events. Quanta tecnologia c'è adesso negli eventi? Tantissima ma ti ti dico non c'è solamente negli eventi ma c'è anche nei congressi eh nei nei matrimoni perché molto spesso ci chiedono di mandare online dei video delle ormai la tecnologia è all'ordine del giorno ed è entrata proprio a far parte della nostra vita quotidianamente. Se pensiamo che ci si può fare tutto si può addirittura da lontano vedere a casa cosa succede oppure qualsiasi tipo di altra cosa figuriamoci all'interno del di crea del creare un evento giusto e importante quanto non sia. Certo. Soprattutto per essere per creare qualcosa di diverso. Di diverso di particolare non a caso sono nate anche delle figure insomma che seguono delle quali chiaramente ci avvaliamo no? Dei collaboratori. L'importante è avere la giusta squadra per creare poi dopo il l'evento che va dal top. Ripeto anche perché ad oggi quando organizzi quello che può essere il matrimonio piuttosto che il congresso, il meeting o l'assemblea generale c'è sempre di più l'attenzione a voler avere il top cercando di contenere peraltro i costi in quello che è un momento un po' anche particolare. Quindi la prima cosa quanto a budget hai? Esatto. Se magari pensano a grandissime cose castello, castellino, il cavallo e la cosa quanto hai? Poco. Esatto. Prendiamo una 500, facciamo le cose più fattibili però ogni evento poi viene il tuo lavoro anche quello di cucirlo un po' addosso. Assolutamente assolutamente cambiamo diciamo il life motive lo cambiamo ogni volta soprattutto per quello che sono le spose viene cambiato automaticamente di volta in volta. Abbiamo una squadra, ci sediamo. Il mio diciamo il mio principale punto di forza forse è quello di passare molto tempo con gli sposi all'inizio e di capire quali sono le loro esigenze, quali sono le loro aspettative, i loro sogni insomma da dove vengono. Tipo dal psicologo adesso sediti qua, rilassati e raccontami quello che vorresti. Sembra strano ma molto spesso lo facciamo perché hanno sempre più bisogno di sentirsi tranquilli e quindi ci piace poi mettere il nostro estro a disposizione, facciamo delle cose molto molto particolari, creiamo appunto la cosa proprio come la vuole la persona. Erika se sei solamente tu a gestire tutto questo o ti avvali anche di figure esterne o interne? Assolutamente perché sarebbe impossibile, diciamo che io sono un po' la mente ma ho dei validissimi collaboratori senza i quali non potrei fare nulla assolutamente perché è un lavoro ripeto molto complesso e complicato, peraltro io scrivo anche quindi molto spesso mi capita di dover scrivere non so la frase proprio indirizzata agli sposi piuttosto che all'evento stesso e quindi mi ritrovo che per fare una cosa del genere devo a volte isolarmi anche un paio di giorni. Sì perché poi ci sono persone che parlano, ti parlano sopra magari ti viene in mente all'improvviso la frase perfetta? Bravissima! Cioè la gente comincia a chiederti le cose, no lo devo scrivere in questo momento. Bravissima, bravissima. Erika Serafini, One Smart Events le trovate su Facebook con One Smart Events di Erika Serafini se intanto volete mettere un bel like per andare a vedere già qualche organizzazione, qualche evento che ha già organizzato anche matrimonio ma c'è anche il sito www.onesmartevents.it oppure ho mandato un'email commerciale chiocciola onesmartevents.it qualche altro contatto che vogliamo dare Erika? Beh il cellulare sicuramente che è il mio personale al quale rispondo che è il 393 9287633 e dall'ufficio che è lo 0661699046 una cosa fondamentale è che il cellulare è sempre acceso quindi a volte mi capita di ricevere persone anche il sabato o la domenica quindi non è un problema assolutamente di non è un'agenzia che chiude H24 assolutamente grazie Erika Serafini ricordatevi il suo motto in un mondo dove tutto ha un prezzo tutto questo non ha un costo grazie Erika grazie a voi buonasera